Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di mattino 6, venerdì 3 maggio 2019, iniziamo subito alla nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani locali, siamo sulle 4 edizioni del centro, qui in particolare sull'edizione di Pescara, l'apertura more di meningite e allarme, Pescara Andrea Montebello aveva 21 anni via ai controlli ASL, chiusa una discoteca e poi a centropagine la fotonotizia nel tondo la sfortunata vittima, ieri pomeriggio ci sono stati i funerali a Città Sant'Angelo e poi i richiami Caso Gran Sasso, Legnini così si può evitare di chiudere il traforo, regione turismo in bici 19 milioni per la ciclovia adriatica e poi di spalla Pescara oggi si decide sulla gestione, dovrebbe essere il giorno dell'apertura delle buste per iniziare il percorso di assegnazione della gestione temporanea delle Naedi e poi la moglie di Fattiboni scomparso a Caramanico, cercate ancora, bilanci della Pescara Calcio, Sebastiani vince anche in appello contro gli annascoli e poi la cronaca sotto la fotonotizia, schianto con la moto dopo la dialisi, muore a 45 anni travolto da un'auto, aveva gestito un locale a Pescara Vecchia, poi il buongiorno abruzzo di Giuliano Di Tanna, l'Italia, povera Mabella che non c'è più. Andiamo avanti con l'edizione di Chieti del centro, nuovo cratere, arriva il semafora, Chieti si riapre la voragine in via aereo ma i bus restano rischio paralisi in centro. La fotonotizia, il culto di San Nicola da Vasto a Bari, Pellegrini in marcia per 220 km. I richiami di cronaca, Chieti, delitto Di Marco, musicista ucciso, ora scontro in Cassazione a Vasto, la nuova TAC sarà in funzione da ottobre. Invece da Tessa, ex Honeywell a Baumark, cessione a giugno. Ancora la cronaca sotto la fotonotizia, bimba investita, caccia all'auto pirata, lanciano colpita mentre va in pizzeria con la famiglia, recuperato uno specchietto. Andiamo avanti, siamo sull'edizione di Teramo del centro, muore sul lavoro in Germania, un operaio di tortoreto travolto da un camion dentro una cava, aveva 45 anni. E poi la fotonotizia con l'evento classico del primo maggio a Teramo, non solo le virtù ma anche maratonina pretuziana, corrono in 4.000. Andiamo ai richiami di cronaca, il Consiglio provinciale, lo Stato paghi per la sicurezza dell'acquedotto, non alla chiusura del traforo e finanziamento integrale da parte dello Stato della messa in sicurezza del sistema Gran Sasso. Sono solo alcune delle richieste inserite nell'ordine del giorno, approvato all'unanimità dal Consiglio provinciale. E poi ad Alba Adriatica, amici accusati di violenza su due sedicenni. Un terramano trova orologio dell'impresa aerea di Balbo. Poi sotto la fotonotizia, banda del buco, devasta cinque aziende, a Martinsicuro sfondati muri a ripetizione in una sola notte, grosso furto di gomme. Proseguiamo, siamo sull'edizione aquilana del centro, l'apertura parco urbano intesa sblocca lavori, l'Aquila 3 milioni in più per il progetto di Piazza d'Armi, atteso da oltre dieci anni. E poi la fotonotizia dedicata allo sport, l'Aquila calcistica rialza la testa e sale in promozione, la rinascita dallo sport, rugby in salvo, basket ok con i giovani. E poi i richiami all'Aquila, Pignatelli Junior si dimette e lancia accuse la bufera intorno all'amministratore unico del centro turistico Gran Sasso, Dino Pignatelli, per la nomina del figlio e direttore di esercizio degli impianti di risalita, costretto Pignatelli Junior alle dimissioni ma anche a lanciare accuse. E poi ad Avezzano sesso e droga all'eliporto dei pompieri, ancora ad Avezzano i negozianti sì al mercato a Borgo Pineta. E poi sotto la fotonotizia Magneti Marelli ceduta ai giapponesi, FCA chiude per 5,8 miliardi l'accordo con CK Holdings a Sulmona. Subentro a breve. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina del messaggero Abruzzo, anche in questo caso l'apertura dedicata al caso Meningite. Meningite 30 sotto profilassi, ragazzo stroncato dal batterio, allarme a Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo in terapia le persone che hanno avuto contatti con lui, tempestati i centralini della ASL. E poi sotto la testata Lanciano, ragazza frustata e maltrattata, assolta la matrigna, calcio dilettanti, l'Aquila festa grande con i tifosi per la promozione. E poi sempre calcio ma di Serie B, il Pescara ora è un passo dalla conquista dei playoff, Pillon carica la squadra alla vigilia della trasferta di Venezia. Le avversarie non approfittano del turno di riposo del Delfino. Il rientro di Gravion di spalla ai comuni non interessa la banca della terra. Questa l'accusa il dirigente regionale Sacchetti, spiega il mancato successo della legge. Poi in taglio medio la fotonotizia, schianto in moto, muore a 47 anni, Pescarese perde la vita a Portanovi, in un tragico incidente, lungo viale d'annunzio, ha perso la vita Mirko Dottore nel Tondo, 46 anni, Pescarese, gestore del locale Glam Lounge di Corso Mantonè. E poi ancora commissario Ok, ma solo il tempo per fare i lavori, Gran Sasso, Legnini, alla giunta Marsiglio, non scaricate le vostre responsabilità. E poi in basso Narcos, processo ellenica, 25 anni al BOS. E proseguiamo, siamo sulla prima della città, il quotidiano della provincia di Teramo, Acqua Sicura, fuori i 172 milioni. Il centrosinista chiede al governo di nominare Marsiglio, commissario e la revoca della chiusura del traforo. Poi sotto la testata, Giulianova, 4 candidati a confronto sul lungomare. Poi la vicenda Team, le quote del privato, il giudice convoca i due contendenti. Siamo alla fotonotizia Colledara, incendio alla fabbrica di articoli religiosi, Santini in fumo. E poi di spalla, Tortoretto camionista muore in un cantiere tedesco il primo maggio. La disputa con Atri, commissariato di polizia Roseto accelera. E poi sotto la fotonotizia, via Pannella, da ieri a senso unico, sistemati gli stalli che però ora sono di meno. Via Pannella a Teramo. In basso, sempre Teramo, iniziativa del Libraio. Non buttate i libri, portateli in libreria che li regalo. Abbiamo visto alcune aperture dei quotidiani locali dedicati al caso meningite. Allora vediamo il servizio realizzato ieri dal Tg6. Professor Paruti, c'è timore, c'è paura in queste ore a Pescara per quanto accaduto a questo povero ragazzo di 21 anni. Ma vogliamo spiegare come si trasmette la meningite, soprattutto questo tipo di meningite. Allora, questo tipo di sepsi meningitica, in realtà perché è stata un'invasione di tutti i tessuti, non soltanto delle meningi, è una malattia rarissima. Questo è bene che lo diciamo perché è una cosa perché è determinata dal fatto che alcune, poche persone suscettibili all'ingresso del batterio attraverso le tonsille nel sangue, quando incontrano questi ceppi di batterio, specie se particolarmente virulenti, possono avere manifestazioni gravissime come quella che questo povero ragazzo ha avuto nella giornata di sabato. Ma la malattia rimane rarissima perché nonostante che magari parecchie persone nella collettività portino questo germe, coloro che sviluppano la malattia sono per fortuna solo una piccola frazione, quelli geneticamente meno difesi. Noi eravamo pronti alla possibilità che arrivassero nella nostra città i ceppi che hanno circolato di recente in Toscana, poi in Campania e da ultimo in Sardegna. Quindi avevamo pronto un protocollo particolarmente efficace, ma che nonostante la sua tempestività in questo caso non ha funzionato. Purtroppo in questa circostanza è stata una vera fatalità. Tutte quelle persone che sono state più o meno a contatto con questo 21enne nelle ore precedenti la malattia, sono ovviamente preoccupate? È giusto che ci sia questa preoccupazione, quest'ansia? Allora, diciamo che è una giusta preoccupazione perché è una preoccupazione per la quale si ha una risposta certa. Se noi pratichiamo una singola dose di una delle due molecole farmacologiche che abbiamo a disposizione, dei due adimpiotici efficaci, abbiamo un azzeramento, non si può dire mai in medicina, ma abbiamo una riduzione prossima al 100% del rischio che se una persona si è esposta possa sviluppare la malattia. Quindi fondamentalmente chi ha avuto un contatto diretto con questo ragazzo nell'ultima settimana, nella settimana che ha preceduto questi eventi, se fa una monodose su indicazione medica di questi farmaci sicuramente non si espone a rischi aggiuntivi e si toglie un grosso pensiero. Stiamo frondeggiando l'emergenza grazie alla collaborazione di tutte le unità operative presenti in questo presidio ospedaliero, in particolare il pronto soccorso, in particolare le malattie infettive e il servizio di igiene pubblica sul territorio. Abbiamo attivato anche le guardie mediche per le attività nel giorno festivo del 1 maggio e adesso i medici di famiglia, fronteggiando al meglio la situazione. È stata attivata anche un'unità di crisi che ha seguito ieri l'evolversi della situazione, fronteggiando tutte le emergenze possibili e si riunirà a breve per verificare il termine della situazione o eventualmente predisporre altre particolari situazioni. E ora le testate nazionali, vediamo le prime pagine iniziando dal Corriere della Sera. Conte Sfida Salvini, via Siri il Premier dice giusto che si dimetta, il leader leghista me lo deve spiegare, deciderà il Consiglio dei Ministri, il sottosegretario non possono scaricarmi così, Di Maio all'alleato pensiamo a lavorare. E poi ancora a centropagina la foto notizia Italia e Francia, amicizia eterna nel nome di Leonardo, Mattarella e Macron sulla tomba del genio. E poi in taglio medio la vittima di Viterbo, ho paura, non li perdonerò il padre di un accusato, sì gli ho detto di buttare il cellulare. Andiamo avanti e siamo sulla prima pagina di Repubblica, ancora caso Siri e caos governo, frattura scomposta, Di Maio, Pressa e Conte licenzia il sottosegretario leghista, Salvini spiazzato, mi devono spiegare, flat tax, provincia, sicurezza, maggioranza divisa su tutto, intervista a Gentiloni con loro Italia isolata. E poi la foto notizia l'Europa dei fili spinati, in Ungheria il patto Orban Salvini, il tedesco Meuten, leader dell'EFD, l'ultradestra sia compatta. E poi in taglio medio il reportage dal Venezuela, Maduro attacca, l'esercito sta con me, gelo Stati Uniti, Russia. E poi ancora a piedi pagina l'intervista piano impariamo da Leonardo e riprendiamoci. la bellezza con la foto che ritrae Macron e Mattarella. Andiamo avanti sul fatto quotidiano, l'apertura via Siri, Conte dà una lezione etica a Salvini, il sottosegretario fa il furbo, mi dimetto ma dopo l'interrogatorio mai fissato, il premier tira dritto, ora il CDM voterà la sua revoca, non per l'indagine ma per i favori privati. E poi sotto la testata, la rogatoria, la prova che incastra Berlusconi, soldi a rubi sul conto del suo ex, trovati 400 mila euro su un conto in Svizzera. A Viterbo, stupro social, le chat horror che terrorizzano Casa Pound potrebbe applicarsi la legge sul revenge porn. E poi proseguiamo, siamo sulla prima di Libero, Di Maio giù, Salvini su, nonostante lo scandalo Siri, i sondaggi premiano la Lega malgrado l'offensiva giustizialista dei 5 Stelle, segno che gli elettori non ne possono più delle incursioni, delle toghe in politica, i grillini disperati giocano il tutto per tutto. Conte obbedisce al Movimento 5 Stelle, caccerò il sottosegretario biminale, furibondo. E poi a centro pagina le vite di Berlusconi, ecco, magari cerchiamo ora di ripristinare questa prima pagina, non ce la facciamo, comunque c'era una battuta appunto sul leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che avrebbe superato Lazzaro con le sue resurrezioni. Siamo ora sulla prima pagina del mattino che apre così, Cervelli del Sud in fuga, tasse zero per chi torna il 90% del reddito fuori dall'imponibile per 10 anni a chi rientra dall'estero. Patti per il mezzogiorno e scontro tra regione e governo vogliono cancellarli. E poi Silurato Siri, lo schiaffo di Conte alla Lega, il Premier, la revoca nel prossimo CDM, ma il sottosegretario potrebbe dimettersi Salvini, luce incrinata con Palazzo Chigi. E poi sotto la testata Cagliari, prevendita flop, San Paolo il grande gelo, mai così in pochi nell'era dell'Aurentis. Andiamo avanti, siamo sulla prima del messaggero che apre così, Siri, schiaffo di Conte alla Lega. Il Premier annuncia la revoca in CDM, ora in questo momento è scomparsa la prima pagina. Ecco qui, il Premier annuncia la revoca in CDM, il sottosegretario indagato potrebbe dimettersi prima il Carroccio, fiducia incrinata con Palazzo Chigi e Salvini vara l'asse di centrodestra con Orbán. Poi a centropagina leggiamo e vediamo anche la fotonotizia Colosseo, il terzo sfregio in sei giorni in azione a chiappavandali armati. Raggi, la sindaca di Roma, scrive agli ambasciatori, via i barbari da Roma. E poi sempre in taglio medio, all'Italia a rischio, manca il socio, sfida su Atlantia, Giorgetti apre ai Benetton, ma Castellucci frena e Di Maio sorpresa annuncia, ci serve solo il 15%. Proseguiamo, siamo sulla prima del manifesto, ciao Siri, ultima puntata della tenenovela Siri, Conte dimette il sottosegretario che tenta in extremis l'autodifesa, lascio tra 15 giorni se non mi archiviano, ma il Premier lo congeda con una improvvisata conferenza stampalampo, la revoca al prossimo CDM, Salvini abbozza. E poi in basso, visita elettorale del Ministro in Ungheria, Salvini abbraccia il muro di Orbán. Proseguiamo, siamo sulla prima pagina del Sole 24 ore, auto aprile inverte la marcia, più 1,5%, c'è qualche problema sulla prima pagina del Sole 24 ore, allora possiamo proseguire. Siamo sulla prima del secolo.it, dovremmo esserci, c'è qualche problemino, cerchiamo di ripristinare appunto la prima pagina, se ce lo consente il nostro iPad, altrimenti tra poco passeremo alle prime pagine delle testate locali. Dovremmo esserci, siamo sulla prima del secolo.it, Di Pietro diventa casta, deve risarcire cuffaro di 6 mila euro, l'ex PM si rifugia nell'immunità parlamentare che contestava. E poi ancora, andiamo con la verità che apre così, ogni anno l'Inps mette le mani su un miliardo dovuto alle famiglie. Giochi di prestigio con gli assegni durante la gestione di Boeri, parte dei 6 miliardi versati dalle aziende a favore dei dipendenti con figli, è stata usata per altri scopi. Tridico, voglio capire. E poi in taglio medio, Conte a gamba tesa sulla Lega via Sirin, nonostante il sottosegretario abbia promesso di dimettersi se non verrà archiviato, al prossimo Consiglio dei Ministri il Premier proporrà la decadenza, come chiede il Movimento 5 Stelle. Gelo del carroccio. Andiamo ora sulla prima dell'avvenire, così si minaccia la società civile. Questo è il titolo d'apertura, Fondazione Sussiderietà MCL contro la stretta del Governo e Salvini esalta i muri. Altre voci a difesa del terzo settore, il caso del fondo per le persone non autosufficienti. Poi in taglio medio, intanto la fotonotizia, clima, Londra si dichiara in emergenza, la Gran Bretagna, primo paese OX a votare una mozione che impegna anche a zero emissioni di CO2, di anidride carbonica. Poi la politica, Conte, Siri, ora lasci, la Lega non strappa, revoca il prossimo CDM, il sottosegretario tenta l'ultima mossa. Proviamo a tornare indietro e vedere ecco qui la prima pagina del Sole 24 ore, Auto Aprile inverte la marcia, vendite a più 1,5%, dopo tre cali consecutivi il mercato italiano registra un segno positivo, le immatricolazioni di FC ascendono del 4,15%, la più acquistata è la Panda. L'indice PMI manifatturiero sale più delle attese, 49,1%, meglio della media dell'Unione Europea. Poi la fotonotizia, aziende e università, Veneto, fuga di laureati e chi va via non torna. Andiamo a chiudere ora con la prima pagina del tempo, prima di tornare ai quotidiani locali, ecco l'apertura del tempo, Conte fa lo sgambetto a Salvini, il Premier annuncia in un monologo alla stampa la revoca del sottosegretario leghista Siri, così accontente il Movimento 5 Stelle, ma per non irritare l'altro socio fa finta che l'indagine non c'entri. Poi c'è il tempo di Osho, come sempre dissacrante, da quanto tempo si è messo a prendere delle decisioni questo con il Vice Premier Salvini che si rivolge all'altro Vice Premier Di Maio con in mezzo il Premier Conte. Possiamo lasciare le prime pagine delle testate nazionali, torniamo ora alle testate locali e sfogliamo le pagine del centro, andremo ora a pagina 2 e pagina 3 per vedere i contenuti, si parla in particolare della cessione di Magneti Marelli. Ecco qui Magneti Marelli ceduta ai giapponesi, FCA chiude per 5,8 miliardi l'accordo con CK Holdings, Calconic Cansei Corporation, colosso della componentistica auto. E poi chi è l'acquirente? Il gruppo di Tokyo controllato da un fondo USA. In taglio medio i riflessi in Abruzzo sul Mona, a breve il subentro nella fabbrica da 600 operai. E andiamo in basso, Berliner Wine Trophy, Cantina Tollo migliore cooperativa vinicola in Italia, il premio assegnato in Germania fra 3.000 partecipanti. Berna, il presidente di Cantina Tollo, è il frutto di una azione corale. E poi Abruzzo caso Gran Sasso, Legnini, 5 proposte per non chiudere il tunnel. Il consigliere regionale e altri gruppi di opposizione presentano un piano sia al commissario ma con poteri limitati. Chiesta una seduta straordinaria del consiglio regionale. Allora, vediamo il servizio del Tg6. La richiesta di un consiglio regionale straordinario con all'ordine del giorno il tema del sistema delle acque del Gran Sasso e la possibilità di scongiurare la chiusura del traforo, che sarebbe una mannaia per l'economia locale, arriva da Giovanni Legnini, consigliere di opposizione in Regione Abruzzo. Proponiamo 5 punti precisi di intervento. Uno, chiedere al governo di stanziare con provvedimento legislativo le risorse. Due, sia al commissario ma al commissario per eseguire le opere, non per sostituire le competenze degli altri enti a partire dalla Regione. Quindi il Presidente della Regione assuma il ruolo, la funzione di coordinamento e gli enti soggetti coinvolti facciano tutto ciò che bisogna fare. Terzo, rinnovare e rafforzare il protocollo d'intesa di cooperazione per la prevenzione del rischio. Quarto, favorire la partecipazione dei cittadini e delle imprese in un periodo che si preannuncia non breve, lungo, perché per eseguire queste opere occorrerà tempo. Quinto, revocare la decisione di chiusura dell'autostrada. L'autostrada non può chiudere. Intanto il PD nazionale, con altre forze di opposizione, guidate tutte da Stefania Pezzopane, deputata della Repubblica, stanno predisponendo un disegno di legge organico che vada proprio nella direzione indicata da Legnini. I poteri statali devono metterci risorse, devono sostenere il sistema regionale, ma ciascuno di noi deve fare, ciascuno dei poteri regionali e locali devono fare il proprio dovere. Bisogna anche favorire, per esempio, la partecipazione dei sindaci, delle associazioni a questo percorso che non sarà né facile né breve e che per fortuna poggia su un lavoro istruttorio che è stato garantito nei due anni trascorsi, che si è concluso con una delibera di giunta regionale presieduta da Giovanni Lolli il 25 gennaio scorso. Siamo sempre sul centro, pagina Abruzzo, turismo in bicicletta con il progetto ormai arcinoto Bike to Coast, ciclovia adriatica 19 milioni in arrivo, sta per essere siglato il protocollo tra l'Abruzzo e le altre cinque regioni coinvolte e il Ministero, dice l'assessore regionale Febbo, occasione di sviluppo e qui vediamo una mappa con tutto il tracciato della ciclovia, praticamente da Martinsicuro fino a San Salvo, tutto il litorale abruzzese. Abbiamo dato indicazioni ai sindaci per avere notizie sullo stato di avanzamento dei lavori, ha aggiunto sempre l'assessore Mauro Febbo. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Pescara, abbiamo visto poco fa il servizio, la morte di Andrea Montebello all'età di 21 anni, stroncato dalla meningite e controlli a tappeto della ASL, sottoposti a cure familiari, amici, colleghi di lavoro e clienti di una discoteca, discoteca dove si era recato il giovane sabato scorso e il locale è stato chiuso, chiuso il locale che frequentava, scrive il centro, stoppa l'attività da due giorni, oggi i nuovi test della ASL, il gestore, siamo addolorati. Poi i funerali a Città Sant'Angelo si sono svolti ieri pomeriggio, Andrea lacrime e dolore, sognava di fare il tatuatore, lavorava come cassiere in un supermercato di via scesa a Montesilvano, oltre 400 persone per l'ultimo saluto alla collegiata di San Michele a Arcangelo. Poi in basso al porto turistico due giorni di test gratuiti, domani la prima tappa del tour della salute che toccherà 14 regioni italiane e spettacolo di Duccio. Andiamo avanti, siamo su quest'altro fatto di cronaca che è occorso in viale d'annunzio. Incidente della notte, motociclista muore investito, stava tornando a casa dalla dialisi, Mirco Dottore, 45 anni, era in sella al T-Max, lo schianto è avvenuto all'incrocio con via De Cecco, lo ha travolto con l'auto un cameriere di 26 anni che rincasava alla fine del turno di lavoro. Poi leggiamo in taglio medio, ex titolare del Glam, tifosissimo del Pescara, Mirco Dottore lascia la moglie e due figli, il dolore del fratello Paolo, che vediamo con lo sfortunato Mirco nella foto, il dolore del fratello Paolo se n'è andato troppo presto. Ancora la cronaca, droga dall'Albania, 312 anni di carcere, a sentenza il maxiprocesso nato dalle rivelazioni di quattro pentiti, condannati 45 imputati, 20 assolti a martelli, 25 anni. Proseguiamo verso le elezioni comunali, Costantini sarò il sindaco che farà la nuova Pescara, il candidato presenta la sua squadra di aspiranti consiglieri, 7 sono ex Movimento 5 Stelle, il primo obiettivo è la fusione dei tre comuni, così taglieremo i costi della politica. In taglio medio gli architetti incontrano i candidati, il Presidente dell'Ordine è D'Alonso, vogliamo conoscere i loro piani per la città. E poi le parole anche di un altro candidato sindaco, Gianluca Baldini, che prosegue il tour dei ciclo comizi, città penalizzata da scelte errate, dice, dobbiamo riappropriarci dei nostri diritti. E poi ancora, Marinella Sclocco, accordi anche con il Movimento 5 Stelle, se dovesse andare al balottaggio la candidata sindaco del centro-sinistra, presenta la sua terza lista e svela i progetti per vincere, o in programma l'unificazione e lo snellimento dei servizi per semplificare la vita dei cittadini, le elezioni in Sicilia ci confermano che il clima politico sta cambiando, quello in carica in Italia è solo un governo di propaganda. Allora, ascoltiamo la candidata sindaco di Pescara, Marinella Sclocco. Oggi è il giorno della presentazione della lista Sclocco-Sindaco, una grande emozione. Sì, sono molto felice di presentare questa lista che di fatto, come ho detto più volte, si è in qualche modo costruita da sola, perché ho avuto subito dopo l'annuncio della mia candidatura tantissime persone che hanno deciso di darmi una mano in questa bella sfida per la nostra comunità. Della lista fanno parte tantissime persone provenienti dal mondo del volontariato, ma anche dal mondo delle professioni, dal mondo della scuola, quindi è una lista veramente civica, molti di loro, la maggior parte di loro non si è mai candidata, ma in qualche modo con il loro lavoro, con le loro passioni, è sempre stata in mezzo alla gente, ha sempre cercato in qualche modo di dare una mano nella co-costruzione della nostra comunità e quindi anche della nostra città. Io sono una novità, la novità è nell'aria, come dicevo nei nostri manifesti, Pescara va migliorata, è una città che ha molte potenzialità, deve crescere, per cui noi ci candidiamo proprio per questo. Sempre sulle pagine del centro, un altro candidato sindaco a Pescara, Civitarese, difende il piano per l'ex stazione, gli altri attaccano il mio progetto per l'area di risulta e non indicano delle alternative. Proseguiamo, siamo sempre sul Pescara, Pescara, Naia di oggi si aprono le buste, ma i ragazzi disabili protestano davanti all'impianto chiuso, i paralimpici di FG Quadro, senza piscina non abbiamo alternative, con loro anche i candidati sindaco Costantini Alessandrini e il vice presidente regionale Pettinari. Andiamo ora sulle pagine di Pescara, anche sulle pagine di Montesilvano, anche in questo caso un comune che si prepara alle imminenti comunali, centrosinistra, Fidanza, il candidato sindaco per il centrosinistra a Montesilvano, si affida ai giovani e comincia dai quartieri, Fidanza che presenta la squadra, le sue priorità e spiega, è un'occasione per avviare una nuova generazione di amministratori. Proseguiamo, sempre sul centro, Tennis, Francavilla vuole la riconferma, successo dell'ultima edizione, soddisfatti anche i ristoratori, il contratto è scaduto, gli organizzatori contano sulla regione. E poi ancora, appello per il familiare scomparso, segnalate scarpe e bastoncini, la moglie e le figlie di Fattiboni, sparito a Caramanico a settembre, distribuiscono volantini in paese, chiedono aiuto agli escursionisti, se avvistate oggetti nei sentieri, chiamate subito i carabinieri. Andiamo avanti, siamo sulle pagine di Chieti, caos viabilità, arriva il semaforo, una nuova voragine, si apre in via aereo, l'asfalto cede ancora, ma con la scala mobile bloccata, il comune permette il transito ai bus, ora è a rischio, paralisi in centro, scattano i divieti fino a domenica, bus e auto transitano solo in una direzione, da via Madonna degli Angeli verso San Giustino, poi solo i bus possono andare a doppio senso, la regione stanzia 100 mila euro per eseguire i controlli nei cunicoli sotterranei, via libera, un muro di contenimento, al di sotto del buco. E poi ancora, nella pagina successiva, l'apertura, un omicidio di Marco, doppio ricorso, musicista ucciso, scontro in Cassazione, a Chieti, dopo la pena ridotta a 16 anni, Cipressi chiede un nuovo sconto, ma la procura vuole una condanna, più pesante. Avanti ancora, l'incidente sulla variante, a Lanciano, bimba investita, caccia all'auto pirata, la piccola di 4 anni colpita, mentre andava in pizzeria con la famiglia, i carabinieri recuperano uno specchietto rotto. E ora le pagine di Teramo, con quest'altro fatto di cronaca, una tragedia in Germania, muore sul lavoro travolto da un camion, incidente martedì, in una cava in Baviera, l'operaio 45enne di Tortoreto, viveva all'estero, ma tornava sempre d'estate. I parenti sono subito partiti per Memmingen, città gemellata con Teramo, ma le indagini della polizia sono ancora in corso, non è certa la data del rientro della Salma. E poi in taglio medio, morte in fabbrica Civitella, due a processo, un 31enne rimase schiacciato da un macchinario, mentre lavorava all'interno della Simplast. Ancora, Gran Sasso, il documento della provincia, lo Stato finanzi, la messa in sicurezza, è una delle richieste avanzate, nell'ordine del giorno, approvata all'unanimità in Consiglio. Oggi l'Assemblea dei Sindaci. E poi in taglio medio, ritrova un orologio dell'impresa di Balbo. Collezionista Terramano lo compra all'asta e con aiuto di un amico scopre che un pezzo unico, il cronografo, era su uno degli idrovolanti che volarono da Orbetello a New York, nell'estate del 1933. E poi la festa del 1 maggio, in corteo per il lavoro. Ora deve agire l'Europa, Giulianova sfilata dal Lido al Paese, tradizionale comizio di CGL Cislewil, ricordati sindacalisti scomparsi, Aldo Verna e Francesco Di Giosafatte. Proseguiamo, Atri, il Comune intensifica i controlli sull'evasione, l'ente ha indetto anche un concorso per individuare un ufficiale della riscossione. L'obiettivo è recuperare le somme non pagate e contenere la pressione fiscale. Andiamo a chiudere questa prima parte con le pagine dell'Aquila. C'è una bufera politica, un caso, Centro Turistico Gran Sasso, Pignatelli Junior si dimette e accusa. L'ingegnere, figlio dell'amministratore unico del Centro Turistico, dice, incarico gratuito, accettato per spirito di servizio. Il padre Dino denuncia un'incompetenza e l'ignoranza della norma e di chi ha voluto mettere in discussione la mia professionalità, facendo la stessa cosa con mio figlio. E poi ancora la ricostruzione difficile, grandi incompiute, parco urbano di piazza d'armi. Ecco l'intesa al comune ditta all'Aquila l'avvio dei lavori annunciato dal 2014. Potrebbe essere più vicino. L'importo del progetto passerà da 10 a 13 milioni per sbloccare la fase di stallo. E poi chiudiamo con quest'ultima pagina. Tribunale di Sulmona, urne aperte, vanno al voto 282 avvocati tedeschi. Lascia dopo 21 anni, oggi e domani si rinnova il Consiglio dell'Ordine, 12 candidati in corsa per 9 posti, il Presidente uscente, l'impegno va rivolto alla salvaguardia del Palazzo di Giustizia. Poi questa notizia che leggiamo, piuttosto curiosa, ricompensa a chi trova il suo anello. Fede nuziale smarrita a Vittorito, l'uomo promette 100 euro attraverso i social. Ci fermiamo, finisce la prima parte di mattino 6, ma tra poco torniamo con il messaggero, la città e altri servizi. Previsioni del tempo, ora e poi la pubblicità. Di nuovo buongiorno, seconda parte di mattino 6 che iniziamo con il messaggero Abruzzo e con il caso Gran Sasso. La conferenza di ieri di Giovanni Legnini, commissario ok, ma soltanto per fare i lavori. di chiusura del tunnel, Legnini da voce al centro-sinistra, subito le risorse per mettere in sicurezza l'acquifero. Marsiglio si prende le sue responsabilità, sollecita poi la convocazione di un consiglio straordinario, sempre Giovanni Legnini. E poi in basso, pista ciclabile, lungo la costa, i sindaci firmano l'accordo per la parte abruzzese. Il progetto prevede 131 chilometri di ciclovia di cui 85 già realizzati. Arrivano i fondi, la striscia percorribile interesserà anche Marche, Veneto, Puglia, Molise ed Emilia Romagna. Criteri validi per tutti. Ascoltiamo l'assessore regionale Mauro Febbo. Abbiamo l'opportunità di rientrare in finanziamento che verrà discusso fra qualche settimana con le altre regioni dal Veneto alla Puglia, ma il progetto più ambizioso e per cui abbiamo necessità di conoscere con attenzione quello che si può e si deve realizzare è il progetto europeo. Poi abbiamo due ipotesi importanti, quella che ci dà la possibilità del collegamento Stettino-Pola attraverso Trieste, ma quello ancora dove vorremmo esaltare il nostro Abruzzo e vorremmo soprattutto esaltare la nostra capacità progettuale è quello di far rientrare questa pista ciclabile all'interno di un percorso che giri tutto, che percorra tutto l'Adriatico, quindi accordi non solo bici, ferrovie, ma bici, ferrovie, nave. Credo che sia un progetto ambizioso su cui l'Abruzzo si deve far trovare pronto. Ai sindaci abbiamo chiesto di capire lo stato dell'arte, ai sindaci abbiamo chiesto di darci qualche indicazione, chiediamo soprattutto anche uniformità nella morfologia, nella visione della pista perché poi ognuno l'ha realizzata a modo suo. Ci sono ancora delle criticità che dobbiamo assolutamente risolvere, ma sono criticità soprattutto legate ai finanziamenti, all'ipotesi di ulteriori finanziamenti che arriveranno. C'è stata una scelta che non abbiamo condivisa, quella di ritirare, di riprendere i ribassi, cioè restituire alla Regione i ribassi, mentre molti comuni quei ribassi li avrebbero potuto utilizzare per miglioramenti miliari e per risolvere alcune criticità. I comuni vanno attivati, vanno sollecitati quando il comune è in adembiente o si commissaria, ma soprattutto si rende pubblica nei confronti della propria cittadinanza il ritardo dell'amministrazione. Messaggero, pagina di Pescara, la cronaca schianto mortale in viale d'annunzio. Mirco Dottore, 46 anni, finisce con il suo scooter contro un'auto che stava svoltando in via De Cecco e muore sul colpo per l'impatto. La vittima gestiva un locale nel centro storico sarà l'autopsia a fare luce sulle cause dell'incidente forse causato da un malore. La tragedia nella notte il conducente della Ford Focus e un passante hanno tentato di prestare soccorso. E poi in basso chiaramente anche sul messaggero articoli dedicati alla politica e le imminenti comunali a Pescara, Scrocco, professionisti e volontari in squadra e poi Costantini sarà l'ultimo sindaco della città. La candidata del centro-sinistra presenta la sua lista in campo. il polo civico che spunta dalla nascita del supercomune. Prima abbiamo ascoltato il candidato del centro-sinistra Marinella Scrocco. Ora ascoltiamo Carlo Costantini della grande Pescara. Vediamo. Noi siamo quelli che nel 2011 hanno presentato il progetto di fusione di Pescara-Montesilvano e Spoltore. Siamo quelli che nel 2014 hanno promosso e sostenuto il referendum che ha visto il 71% dei pescaresi dire sì al progetto di fusione. Siamo quelli che si propongono per cambiare Pescara. Io l'ho già detto e tengo a sottolinearla. Queste saranno le ultime elezioni amministrative di Pescara. Io spero di essere l'ultimo sindaco di Pescara. Le prossime elezioni si faranno insieme a Montesilvano e a Spoltore. Questo vorrà dire che non ci saranno più tre sindaci ma ce ne sarà uno, non ci saranno più tre giunte ma ce ne sarà una, non ci sarà più un consiglio comunale, non ci saranno più tre consigli comunali ma ce ne sarà uno, ci sarà un taglio massiccio ai costi della politica che svilupperà risparmi per oltre un milione e mezzo di euro l'anno. Insieme a questo ci saranno tutte le premialità dello Stato e della Regione previsti a favore dei comuni che si fondono e soprattutto ci sarà una dimensione territoriale che finalmente ci consentirà di progettare lo sviluppo della città. Tanti volti nuovi nelle sue liste e un solo consigliere comunale uscente Massimiliano Di Pillo. Questo è il grande elemento di novità io l'ho detto prima e lo sottolineo io penso che uno dei problemi della politica sia proprio quella di non assicurare ricambio generazionale e professionale all'interno delle istituzioni. Ci sono molti candidati un candidato sindaco in particolare che da 27 anni siede nei banchi del Consiglio Comunale tutto questo genera inevitabilmente incrostazioni stanchezza mancanza di visioni anche nella campagna elettorale io sento il candidato del centrodestra e il candidato del centrosinistra rinfacciarsi quello che è stato fatto o quello che non è stato fatto o quello che è stato fatto male negli ultimi anni io penso che i cittadini hanno bisogno di guardare al futuro con fiducia e con serenità ed abbiano soprattutto bisogno di creare le condizioni perché possa determinarsi un cambio di classe dirigente se io diventerò sindaco con me entreranno circa 25, 26, 27 persone completamente nuove in Consiglio Comunale ed in Giunta ed è questo secondo me il bisogno primario di una città che vuole cambiare e proiettarsi nel futuro. proseguiamo sempre sul messaggero e psicosi meningite decidi in ospedale per paura del contagio dopo la morte del 21enne Andrea Montebello sono già 30 le persone sottoposte a profilassi analisi sulla natura del meningococco e poi in tanti per l'addio alla giovane vittima anche tra i clienti del supermarket dove lavorava dilagano i timori il sindaco Florin di evitare il panico e poi quest'altra notizia che riguarda il presidente del Pescara Daniele Sebastiani che compra il Lido Belvedere in arrivo un nuovo stabilimento VIP lavoro in corso per il restyling a giugno la festa di inaugurazione si conferma il binomio spiaggia e pallone e poi la cronaca droga 25 anni al nuovo boss il processo Hellenica si chiude con oltre 40 condanne contro la cupola dell'eroina pene per oltre tre secoli la rotta balcanica che riforniva Pescara e altre piazze scoperta grazie a due pentiti siamo ora sulle pagine dell'Aquila Duomo concorso tra Archistar per disegnare la nuova piazza il recupero del grande spazio urbano prevede anche il ritorno del mercato non ci saranno invece le casette al centro di una accesa polemica modello per riqualificare il cuore del capoluogo un elaborato degli studenti dell'università piaciuto all'amministrazione si parte entro l'estate e poi ancora comune il sindaco vuole la sede diffusa trattative per gli immobili di ASL e INPS e poi ancora sempre all'Aquila Cotugno esplode la rabbia dei genitori altri soldi e ritardi per mettere in sicurezza il polo liceale il comitato necessario tutto il prossimo anno scolastico con i 13 milioni disponibili in tanto tempo avrebbero potuto costruire un edificio con un indice di vulnerabilità pari a 1 e poi ancora Biondi la Rai tornerà in centro l'annuncio davanti allo stato maggiore dell'ente intervenuto per la presentazione del calendario numero 10 della One Group e poi ancora Avezzano non spostate il mercato in centro i commercianti della zona nord hanno chiesto al sindaco di non trasferire gli ambulanti grande flusso a Borgo Pineta De Angelis sulla nuova collocazione accordo di tutti il segretario del PD vuole solo conservare la poltrona siamo alle pagine di Chieti via aereo si riapre la voragine ma non ferma il giro d'Italia scattati i sensi unici possono transitare solo auto private e i bus della panoramica il referente RCS Formichetti la corsa passerà di lì così viene valorizzata la città il manto stradale riparato a febbraio è sprofondato di un metro e poi di spalla ecco i soldi tornano le attività in piscina sono arrivate le tre mensilità arretrate che spettavano agli istruttori del nuoto e poi ancora a Lanciano non frustò la figlia adottiva assolta il processo smonta le accuse di maltrattamenti e lesioni la difesa ora la mia assistita può riprendersi la sua vita la donna avrebbe utilizzato metodi di educazione duri per i periti la vittima ha idee a carattere persecutorio secondo la procura furono usati anche calci schiaffi e pugni poi a Cupello l'arta nel torrente cena riscontrata la salmonellosi ordinanza del sindaco gli agricoltori non potranno usare l'acqua a scopo irriguo e andiamo a chiudere con le pagine di Teramo Cultura restano le briciole e gli artisti locali vanno via chiusura forzata per l'omaggio a Tom Marelli chi esce dal liceo artistico ha già la strada chiusa Silvio Araclio con il maggio festa e il premio di Venanzo restano le poche vetrine nazionali e poi le parole di Sandro Merarangero introiti col contagocci il comune fa quello che può ma non basta andiamo avanti siamo a Roseto ho sbagliato chiedo scusa a tutti fotografato più volte in sosta nel posto dei disabili il sindaco del PD parla in consiglio è colpa mia vado sempre di fretta e questo è uno scatto che ritrae la foto ritrae l'auto del sindaco di Roseto di Girolamo in uno stallo per disabili l'opposizione chiede le dimissioni all'avvocato di Girolamo la maggioranza fa quadrato ha ammesso le sue responsabilità lasciamo il messaggero Abruzzo andiamo ora sulla città il quotidiano della provincia di Teramo sfogliamo le pagine appunto della città appena ce lo consentirà il nostro iPad abbiamo la situazione relativa alla Team al caso Team ecco qui pagina 6 Team il giudice convoca Iachini e Gavioli congelata la giudicazione delle quote private per il sindaco c'è più tempo per esprimere il gradimento a pagina 7 la fine di via Pannella da ieri è a senso unico razionalizzata la sosta nei pressi del supermercato anche se gli stalli nel complesso sono diminuiti e poi per la politica in basso leggiamo Dodo di Sabatino torna in pista con Cesa candidato alle europee al pranzo con gli scudo crociati si rivedono i popolari con gli esponimenti di Oltre e il coordinatore di Teramo 3.0 pagina 8 addio al maestro Midiuccio eroe social ieri a Villa Mosche funerali dell'ex professore salutato da una lettera dei bambini poi pagina 9 la scuola deve essere pronta per settembre a San Benedetto in Cartulis il comune impone la riconsegna dei lavori entro il mese di luglio siamo a pagina 10 con l'evento dello scorso primo maggio la carica dei 2400 per la Maratonina Pretuziana record di partecipazione per la 40esima edizione della gara polistica lungo le vie del centro storico anche quest'anno è stata un'idea a rappresentare la squadra più numerosa al via seguita dalla palestra Interamnia e dall'istituto zoo profilattico di Teramo e qui alcuni scatti tra questi troviamo anche Monsignor Michele Seccia con il Rettore Dino Mastrocola andiamo avanti ecco qui siamo a Colledara fiamme al magazzino di articoli religiosi in fiamme plastiche legno e resine nel capannone della carta della zona industriale di Colledara le fiamme sono scoppiate poco prima del 20 e i dipendenti presenti all'interno della struttura si sono messi in salvo la viabilità cantieri sulle strade del Fino e del Cerrano avviati gli interventi da 1,2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria a Silvi Atri Montefino e Castilenti è uno dei cantieri del più vasto programma del piano per le manutenzioni straordinarie finanziato con il masterplan per un importo complessivo di 15 milioni di euro e poi a Tortoreto in Val Vibrata muore in cantiere il primo maggio operaio di Tortoreto investito da un camion mentre lavora in Germania la vittima Alfredo della Ripa aveva 45 anni lavorava in una ditta di calcestruzzo a Memmingen andiamo avanti e siamo a Giulianova candidati a confronto sul lungomare e le ricette di Crescenzo a Costantini Filipponi e Tribuiani per far rinascere la passeggiata tutti e quattro al di là del colore politico puntano alla riqualificazione di tutta la zona e ora siamo a Roseto degli Abruzzi pagina 17 Consiglio Comunale a Roseto accelera per avere il commissariato approvata la mozione per individuare la sede Egno Pavone si astiene e attacca il luogo scelto non è adatto poi le parole dell'assessore Tacchetti sono anni che si parla del trasferimento e si tratta di una richiesta che arriva anche dal questore aggiunge poi il sindaco di Girolamo capisco l'opposizione di altri ma i numeri ci dicono che serve un presidio di legalità lungo la costa e poi sempre a Roseto ancora troppe criticità sulla ciclabile il sindaco di Roseto incontra l'assessore Febbo per elencare tutti i problemi di Girolamo ha sottolineato lo stato del manto nel tratto che unisce la pista tra Cologna e Roseto e ora andiamo con le pagine dello sport iniziando da iniziando ovviamente da pagina 21 della città si parla di Teramo diavolo con Atenana le prove di futuro problemi a centrocampo per Maurizio che potrebbe varare il 4-3-1-2 con Ventola a fare la mezzala tante assenze in mezzo c'è l'infortunato Spighi squalificato Persia con la Pubalgia e Armeno che si è allenato ancora a parte con queste premesse la squadra sarebbe ridisegnata con un modulo inedito e poi in basso ciclismo presentati ieri di Internazionali d'Italia Series di Pineto si tratta del quarto appuntamento del circuito Appruzium Race domenica la manifestazione organizzata da Cerrano Outdoor lasciamo la città e andiamo ora sul centro dunque parliamo di Pescara tra pochissimo ascolteremo le parole del tecnico del Pescara Giuseppe Pillon che ieri ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani pomeriggio contro il Venezia allo stadio Penzo e allora vediamo come i giornali presentano le parole del tecnico Biancazzurro dobbiamo riportarci sulle pagine dello sport Pescara che è vicinissimo alla matematica circa l'accesso ai playoff ecco qui Serie B domani il Pescara al Penzo urlo Pillon voglio i playoff già a Venezia il tecnico fame e carattere così possiamo battere chiunque non centrare gli spareggi sarebbe una sconfitta personale assenze e polemiche torna Crecco ma Bettella indubbio le critiche di Sebastiani o la coscienza pulita rispetto alle idee di tutti vado avanti e allora ascoltiamo anche noi le parole del tecnico Biancazzurro Beppi Pillon dipenderà da noi il nostro destino e le nostre mani questo è già un aspetto importante nel senso che dobbiamo essere bravi noi sappiamo che adesso ci aspetta una partita molto difficile questo è fuori di dubbio perché il Venezia si è inguaiato e sarà una battaglia io so già cosa ci aspetterà lì su quello stadio si giocano le ultime chance secondo me per salvarsi perciò sarà un scontro diretto diretto nel senso che noi abbiamo un obiettivo loro hanno l'altro obiettivo della salvezza noi abbiamo messo non una firma ma due firme per arrivare a questo momento di campionato e in questa situazione io credo che insomma di strada l'abbiamo fatta adesso però siamo lì bisogna tagliare il traguardo nel senso che l'obiettivo va raggiunto a me non piace mai parlare prima del tempo perché so com'è il calcio perciò dobbiamo lottare e sappiamo che sabato per me è una partita molto importante è la partita che noi sappiamo le difficoltà sappiamo gli obiettivi di tutte e due le squadre perché è normale che si e perciò l'approccio deve essere giusto c'è il punto poi andare in campo molle perché se andiamo molli loro hanno la forza della disperazione perciò sarà una partita veramente tosta voglio vedere carattere la determinazione voglio vedere squadra l'abbiamo dimostrato nell'arco del campionato che noi quando siamo squadra possiamo giocarci con qualsiasi squadra quando giochiamo da squadra quando invece vogliamo risolvere i problemi da soli non siamo in grado di fare questo noi siamo in grado che quando siamo che giochiamo da squadra siamo una squadra che può dar fastidio questo è sicuro Bettella oggi ha fatto lavoro a parte perché ha avuto questo risentimento l'altro ieri si è differenziato ha fatto con la squadra vediamo domani lo proviamo domani vediamo se sono delle risposte positive o no ci sono stati anche gli avversari però bisogna analizzare bene la partita nel senso che prima mezz'ora secondo me abbiamo fatto bene poi ci siamo abbassati questo è vero anche per la forza dell'avversario ci siamo abbassati poi l'ultimo quarto d'ora secondo me l'abbiamo fatto ancora bene io rispetto le idee di tutti del Presidente le vostre idee le rispetto tutti non c'ho però è chiaro che io faccio l'allenatore faccio quello che credo sia giusto per la squadra cerco di fare criticamente quello che è giusto fare in quei momenti poi nessuno è infallibile nessuno è un fenomeno io non mi sento un fenomeno per niente faccio il mio lavoro con grande umiltà con grande determinazione cercando di mettere il massimo dell'impegno come ho sempre fatto e io sono di una cosa sono certo io la coscienza ce l'ho più che più che a posto perché sto dando tutto per la causa e lo farò fino all'ultimo secondo fino a che avrò uno spiraglio per lottare per arrivare a un traguardo che in questo momento sembra difficile ma noi dobbiamo crederci eccoci rientrati dunque con la nostra rassegna stampa che volge al termine torniamo sulle pagine dello sport in questo caso del centro in basso leggiamo la corte d'appello dà ancora ragione a Sebastiani il presidente la spunta anche in secondo grado sul ricorso di Annascoli relativo ai bilanci 2015-2016 poi per la Serie C la svolta di Maurizio Teramo con il 4-3-1-2 per sognare in grande il diavolo deve battere la Ternana per sperare nei play-off spieghi e celli indisponibili l'allenatore abbandona il 3-5-2 poi ancora sempre sul centro per il basket basket di A2 stasera i play-off ore 21 Nicolic e Pieric acciaccati Rossetto incrocia le dita Treviglio al Palamaggetti per gara 3 degli ottavi di finale capitano e play in dubbio ma Rodriguez non al meglio conta sul loro recupero vedrete ce la faranno la serie è sull'1-1 Rossetto ha vinto gara 1 Treviglio si è imposta in gara 2 e poi per la Serie B play-off di Serie B teate in scioltezza ora c'è Salerno Chieti batte di nuovo la Luis stacca il pass per la semifinale 66-89 la vittoria della squadra di Coach Cohen e poi per i play-out Biancorossi vincono anche gara 2 la gioia implacabile Campi K.O. Teramo un passo dalla salvezza Teramo che si è imposta 67-51 contro Campi invece l'amatori Pescara è già fuori dai play-off Pescara si è battuto a Reggio Calabria l'amatori si interroga sul futuro dopo la precoce eliminazione cerchiamo di vedere rapidamente anche le pagine del messaggero altrimenti se non ci sarà possibile comunque chiuderemo con una novità che ci farà tornare anche a due giorni fa al scorso primo di maggio ecco qui stiamo ripristinando le pagine dello sport sul messaggero Pescara il destino è ora nelle tue mani Pilon alla vigilia della trasferta di Venezia questa è la partita a un passo dal traguardo il tecnico determinato a chiudere i conti se non centro i play-off per me è una sconfitta poi a Venezia torna Gravion preso Di Grazia l'attaccante Di Grazia poi in basso l'Aquila è festa grande con i tifosi l'Aquila che ha vinto la prima categoria festeggia dunque la promozione nel campionato di promozione e poi la Serie C Caidi Teramo il gruppo è stata la chiave di volta ieri Gomis ha partecipato all'allenamento della squadra prima del match con la Ternana probabile il ritorno di Altobelli i giocatori aspettano di sapere se il trainer resterà o meno e poi per il calcio a cinque a questa pone esordio da shock nei play-off vince Augusta domani serve l'impresa in Sicilia e andare a gara tre altrimenti ci sarà una clamorosa eliminazione per la squadra campione d'Italia e vincitrice anche delle ultime due coppe Italia Bolami vastese salva e poi potrei lasciare questo per la Serie D e poi per il basket Roseto debutto in casa Rodriguez stringe i denti come detto prima di chiudere questa piccolissima parentesi dedicata al virtù si è parlato tanto anche ci sono state delle polemiche per quanto è accaduto per dei servizi di testate nazionali che hanno un po' confuso le idee ecco a terra ovviamente in tanti hanno tenuto a riportare l'ordine sotto questo profilo e tra le altre cose segnaliamo questo articolo firmato dal collega Nicola Catenaro per il Corriere della Sera virtù la zuppa di Teramo con 34 ingredienti si cucinano il primo maggio con legumi verdure e paste di vario genere si fanno soltanto in provincia di Teramo in molti sostengono che sia possibile gustare la vera ricetta esclusivamente nei ristoranti del capoluogo oppure ospiti di una delle tante famiglie residenti in città e attente alle tradizioni poi l'articolo è piuttosto variegato c'è anche lo spazio dedicato alla ricetta dal sito dell'associazione ristoratori Teramani dentro le mura www.arteteramo.it chiudiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 mattino 6 che tornerà domani mattina alle ore 8 vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione del TG6 le edizioni principali delle ore 14 delle ore 19 e delle ore 23 grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione e buona giornata attenzione attenzione